Era un momento importante, non solo dopo il derby, però anche la sostanza internazionale, perché sappiamo che sempre è difficile di ritornare, di avere la testa nel campionato, perché è la prima partita, però abbiamo fatto tutto per vincere questa partita, abbiamo lottato, abbiamo giocato tutti insieme, abbiamo combattuto fino alla fine e abbiamo preso tre punti. Una vittoria di squadra, come dici tu, è una Roma che sta dimostrando anche di crescere sotto l'aspetto della maturità, venire qui, vincere, segnare subito e poi difendere il risultato non era semplice, soprattutto anche negli ultimi minuti. Sì, anche mi ricordo che le ultime due anni, da quando sono a Roma, non abbiamo vinto qui contro la Sampdoria, era molto importante anche nel questo aspetto, è sempre duro a giocare qui contro la Sampdoria, però meno male che abbiamo vinto e adesso possiamo pensare per le prossime partite. E' anche un'altra tua grande prestazione, ti vediamo correre tantissimo, non soltanto costruire, ma anche ripiegare, fare aiuto dei compagni. Questo nuovo ruolo ormai si è cucito perfettamente addosso. Il calcio non si gioca da solo, si gioca con 11 giocatori, anche quelli che sono sulla panchina. Anche io devo correre, devo mostrare che non sono qui solo per giocare quando abbiamo la pala, devo mostrare anche che so difendere, che difendo con voi e molto con voi, perché siamo una squadra, lottiamo per gli stessi obiettivi e dobbiamo lottare fino alla fine.